Il decreto legge numero 18 Cura Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo contiene diverse misure che riguardano direttamente o indirettamente il mondo della scuola. Le disposizioni più importanti sono certamente quelle contenute nell'articolo 120, piattaforme per la didattica a distanza, che prevedono nel complesso un incremento di 85 milioni del fondo della legge 107 destinato alla didattica laboratoriale. 10 milioni serviranno per dotare le scuole di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza. 70 milioni saranno utilizzati per mettere a disposizione degli studenti in meno abbienti, incomodato d'uso, dispositivi digitali individuali. 5 milioni saranno destinati alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche della didattica a distanza. Un'altra misura molto importante riguarda le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. In queste scuole, per garantire la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, sarà possibile sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici. Per questa operazione il decreto stanzia poco più di 9 milioni di euro. Per metterla in pratica ci vorrà però un decreto ministeriale che chiarisca le modalità con cui si dovranno assumere i mille assistenti. Dovrà per esempio essere chiarito a quali graduatorie le scuole dovranno fare riferimento e per quanto se ne sa in questo momento il decreto ministeriale è già in fase di lavorazione. Di particolare interesse anche l'articolo 77 che stanzia 43 milioni e mezzo di euro per consentire alle scuole, comprese quelle del sistema paritario, di rifornirsi di materiali di pulizia per sanificare i locali prima della ripresa delle lezioni. Molto attese da decine di migliaia di precari sono le disposizioni contenute nell'articolo 121 che consentiranno di confermare i contratti di supplenza in essere anche allo scopo di potenziare le attività didattiche a distanza. C'è poi un articolo, il 73, che prevede la possibilità che gli organi collegiali si riuniscano in videoconferenza. Per il momento la norma vale solo per consigli comunali o delle città metropolitane ma non è da escludere che possa essere estesa anche alla scuola al momento della conversione in legge. A questo proposito va detto che il decreto è già stato inviato al Parlamento ed è stato deciso che l'esame inizierà al Senato. La Costituzione prevede che il decreto debba essere convertito in legge entro 60 giorni, ma vista la situazione di assoluta emergenza è molto probabile che i tempi saranno decisamente più brevi, anche se va precisato che le norme contenute nel provvedimento sono comunque già in vigore pienamente dal 18 marzo. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi informati anche con approfondimenti sui singoli aspetti del provvedimento, quindi a tenervi informati. Grazie.